Un paese immobile caratterizzato da una costante contrazione della spesa. E' il quadro tracciato dal rapporto Coop su consumi e distribuzione 2013. In sei anni il reddito disponibile è calato del 10% e la disoccupazione ha toccato il 12% nei primi mesi del 2013, il livello massimo dal 1977. La crisi ha inciso sui consumi degli italiani, alimentari, abbigliamento, libri e giornali, automobili e viaggi sono in calo costante. Secondo il rapporto l'81% degli italiani ha cambiato abitudini di consumo, una percentuale che in Europa è superata solo dagli spagnoli. In Italia 3 milioni di famiglie non riescono a permettersi un pasto proteico adeguato ogni due giorni, un livello registrato solo negli anni 60. Cala il consumo di vino e il numero di sigarette fumate. Il comparto tecnologico è in buona salute, in particolar modo per il settore degli smartphone e dei tablet che registra un aumento delle vendite. Purtroppo in salita anche il gioco d'azzardo, soprattutto online, che alla fine del 2013 sfiorerà i 100 miliardi di euro. Un altro settore fiorente è quello legato al sesso. La vendita del Viagra registra un aumento dell'8% mentre gli accessori superano il 6%. Gli analisti concludono il rapporto con la previsione di un'ulteriore contrazione dello 0,5% dei consumi nel settore alimentare e del 6% nel settore non alimentare. I vertici della Coppa hanno anche lanciato un appello contro un nuovo aumento dell'IVA e per un'azione del governo a supporto della domanda interna e un forte impegno degli operatori economici a sostegno delle famiglie, altrimenti non ci sarà una ripresa del Paese.